Signor Gale, sono Chad Peterson dell'ambasciata statunitense di Patna. La chiamo riguardo alla sua richiesta di un visto turistico per l'India con estensione di passaggio in Chirat. Possiamo accettare solo la sua cittadinanza americana perché non abbiamo registri ufficiali della sua cittadinanza Chirati. Inoltre, e per legge, le devo sconsigliare di visitare il Chirat. Non abbiamo una presenza diplomatica ufficiale in Chirat a causa dei disordini creati dalla rivoluzione del Sentiero d'Oro. Riguardo la sua intenzione di portare con lei i resti cremati di Shwari Gale, dovrà presentare il passaggio della decenzione di Chirat. Ehi! Passaporto! 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 a a a a a a appena ma 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 non ho bisogna c'è qui? l'abbiamo con il cuore qui ci sono? ci sono qui? l'abbiamo con il cuore c'è qualcosa? c'è qualcosa di più c'è qualcosa ? non c'è qualcosa? stop! c'è qualcosa? c'è qualcosa? vieni! 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 Sì! 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 Cazzo! A terra! Oh no! Sì! 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 Vincio subito! Vincio! Vincio! Vincerela! Tutti a terra! Faccia a terra! Vincerela! Sono sicuro di aver detto... Fermate il bus. Sì! Fermate il bus. Non sparate al bus. Ci tengo molto alle scelte lessicali. Fermate. Sparate. Fermate. Sparate. A te sembrano parole uguali? Abbiamo perso il controllo. Ma che cosa hai detto, scusa? Abbiamo sbagliato. Perso il controllo. Odio quando si perde il controllo! Avevi un compito solo! E hai fatto questa cazzata! mi sono pure sporcato le scarpe! Ma guarda il lato positivo. Qualcosa di buono l'hai fatto. Alzati bello! riconoscerei ovunque quegli occhi. Mi dispiace tanto, non doveva succedere tutto... Beh, tutto questo. C'è una festa... che vi aspetta. Mi sono perso il tuo nome. E questo chi è? Eh? È un tuo amico? Un tipo silenzioso. Mi piace. Ah... Peccato. Una situazione brutta, imbrazzante. Sembrava una passeggiata, ma... Se dai da mangiare alle scimmie, quelle... si tirano la merda addosso. Beh... Me lo tieni un attimo. Un secondo solo. Voglio... scattare... una foto, una bella inquadratura. Ecco. Carini. Non ti preoccupare, ragazzo. Presto sarà acqua passata. E partiremo per la nostra avventura. Perché io... ho annullato gli impegni per te. Tu... e io. Se la spasse le malagrate! Alla! Should I stay or should I go?